Mamma mia, mamma mia, mamma mia, voglio buongiorno, dopo 5 ore e 20 di live sono qua con il post partita di Torino-Napoli partita finita per 1-0 a favore degli Azzurri, gol di Faber Ruiz, un gol costruito da lui, un gol bello anche un gol, tra virgolette, fortuito visto che la palla è stata deviata dalle palle di Beriscia perché giustamente la palla è andata sotto le gambe di Beriscia e Napoli torna in costa Scudetto sì, che bello, siamo a meno 4 da Milano se non mi sbaglio, a meno 5 dall'Inter e siamo sempre lì lì siamo sempre lì lì ma veramente devo leggere queste cose, dici, io ci credo ancora beh veramente, ma avete visto l'Inter a quale ritmo va? poi domani Milan bisogna vedere che morte fa, ma secondo me Milan vincerà domani a Verona noi, cioè oggi io ho visto la classica partita di fine stagione, classica partita senza motivazioni un Napoli con la mente ormai sia libera sia una mente proiettata alla prossima stagione direttamente il Torino che ha fatto solo il tiro di Belotti sul primo tempo, poi quella punizione di Belotti ma alla fine di Torino è proprio scesa in campo cioè due squadre che praticamente giocavano con i sandali tre piedi mancava solo l'ombrello nella spiaggia ed eravamo a mare questa è la sintesi completa della partita cioè la partita di scapoli contro al Moiati sarebbe molto più emozionante, molto più bella, molto più frizzantina ok, a parte questo, io miracolo che non mi sono addormentato durante la live perché, torno a ripetere, è stata una partita muscia sicuramente il Napoli nel primo tempo ha creato molto di più quel Mertens che va io allora, tre giocatori vanno premiati oggi perché sono gli unici tre che ci hanno messo qualcosa che hanno messo veramente qualcosa in più Oseman, che affrontava Bremer ok, che ha sempre fermato tutti ok, però Oseman se l'è lottato non dico a me se è pallangato a Bremer però Oseman se l'è giocata dignitosamente su Bremer poteva segnare in due o tre occasioni però tra Berisha, tra la poca lucidità in attacco soprattutto la partita di due esterni titolari di oggi che praticamente giocavano con la testa altrove Oseman praticamente giocava da solo in attacco in secondis, Mertens la qualità incredibile di Mertens Mertens che io l'ho sempre denigrato l'ho sempre criticato l'ho sempre detto che per me deve andare via mi sta ricredendo io chiedo scusa sia a Mertens sia a coloro che difendevano Mertens probabilmente io sono un tipo che non si vuole attaccare troppo ai giocatori per non avere la famosa delusione Iguain Amsic anche se Amsic rimane sempre un posto speciale nel mio cuore e tanti altri che ci hanno abbandonato giustamente per le loro scelte di vita e professioniste per quanto riguarda Mertens ma io professionistiche per quanto riguarda Mertens ragazzi c'è un 35enne che fa questi movimenti un'agilità pazzesca fa la finta fa il velo crea ha avuto due occasioni ghiotte che gli vuoi dire più? non gli puoi dire niente quindi Oseman Mertens e terzo Coulibaly Coulibaly è stato un muro ha fermato sempre Belotti ha fermato qualsiasi incursione del Torino quelle poche volte che hanno provato ad attaccare diciamo che Coulibaly è stato molto molto meglio rispetto a Ramani che ha regalato qualche qualche pallone in uscita Ospina al pensiero che se ne andrà ma io ma chi ha mio coro perché immaginare un Napoli senza Ospina che è un portiere esperto un portiere che nel calcio di oggi serve nel senso che è un portiere che gioca a pallo al piede cioè immaginare un Napoli senza Ospina immaginare un Napoli senza Ospina immaginare un Napoli con Meretti titolare anche se si parla che Meretti dovesse andare via fa male fa male per quanto riguarda i peggiori ragazzi Insigno Insigno è Lozano Lozano 40 milioni io incarno sempre su Stados Lozano Lozano 40 milioni Lozano Lozano non ha dribblato non ha superato una vota Rodriguez che era un difensore centrale dei difesa a tre adattato Rodriguez Rodriguez poi Insigne Insigne bello questo movimento che si accentrava per provare a costruire il gioco solito Insigne diciamo così solite Insigne Spallettiano non mi viene da dire però rigore sbagliato tirato malissimo e ci sta per carità come dice la frasetta del cazzo il rigore bravo chi è capace a tirare frasetta del cazzo per me io l'ho sempre detto che Insigne per me non è un rigorista perché Insigne sente troppo infinitamente la pressione e quindi ha sbagliato il rigore che poteva aprire prima la partita ma la cosa che mi ha fatto letteralmente incazzare qualcuno può concordare qualcuno a me non me lo fotti ho visto questo ovvero l'arroganza di Insigne qualche difensore qualche paradigma della giustizia dicono ma non è vero Insigne è così è stato di un'arroganza terribile per perdonarsi del rigore sbagliato si è ostinato ad andare dritto per dritto sul portiere invece di Arrallozzano che stava liberissimo come l'area quello il rigore non è che mi ha fatto incazzare tantissimo ma quell'occasione sì quella è stata arroganza quella è stata arroganza Fabio Ruiz a parte il gol non è che ha fatto un gran game ma alla fine è stata una partita estiva classica partita di fine stagione dove entrambe le squadre non chiedevano niente non facevano niente quindi che poi che dobbiamo essere felici per il posizionamento Champions che poi oggi in live ho visto la conferenza stampa di quello dello staff di Spalletti ma io mi sembra una di sentire una registrazione cioè io mi immagino no quest'estate vi spiego quello che ho detto in live a me quest'estate mi immagino tutto lo staff di Spalletti compreso Spalletti tutti seduti su una sedia ok così ok mani legate televisore davanti con il Napoli è l'obiettivo della Champions il Napoli è l'obiettivo della Champions il Napoli è l'obiettivo della Champions e se il Napoli dovesse lottare per lo scudetto no 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 bisogna essere felici ugualmente no bisogna essere felici ugualmente cioè mi sembrano quasi psicologicamente come dire indotti a dire ehi siamo felici i ragazzi sono felici i ragazzi meritano i complimenti io non capisco io non capisco come pure altri tifosi che osannano questo passaggio in Champions che ho tanto che poi giustamente in chat uno mi ha scritto speriamo di fare bella figura ecco speriamo di fare bella figura in Champions cioè noi andiamo in Champions non per vincere non andare provare non andare fino in fondo no sperate di fare bella figura questo campionato a me rimane qua rimane qua vediamo Spalletti cosa dirà nel post partita noi ci vediamo domani mattina col pagellone e sempre domani non so l'ora continuerò la foot che ho esordito in foot Champions con tre vittore come so forte ciao a you e forza Napoli